Abbiamo costituito questo comitato istituzionale che è il comitato dei sindaci il quale farà una richiesta per tutti i sindaci al Presidente del Consiglio di essere ricevuti e di iniziare a parlare in maniera concreta, quindi alle parole devono seguire immediatamente fatti che si ripercuoteranno in positivo sulle nostre popolazioni, non nella speranza ma nella certezza di una ricostruzione che non stenta a partire ma ad oggi non c'è e che invece deve essere ormai concretamente attiva per far sì che questi territori riacquistino invece quella speranza che giorno dopo giorno stanno perdendo. Sono passati più di due anni, la ricostruzione non esiste, siamo ancora in piena emergenza, manca il personale, mancano azioni economiche di sostegno dei territori e ora di dire basta ad un qualcosa che ha lasciato non solo i territori ma soprattutto i cittadini, soprattutto quei nostri figli che saranno invece il futuro delle nostre terre. Quali sono i prossimi step quindi? La richiesta al Presidente del Consiglio che sicuramente, almeno spero, ci riceverà e ovviamente lì andremo a parlare concretamente di cose che in maniera singola in verità sono state sempre trattate. Forse fino ad oggi è stato più facile non ascoltare i singoli sindaci, vogliamo, ci stiamo unendo proprio perché parlando tutti insieme una stessa lingua ritengo che diventi più difficile per chi vuol fare orecchie da mercante lavorare in quel modo perché poi siamo anche pronti a ragionare istituzionalmente noi come sindaci ma anche con le popolazioni che se non ci saranno fatti concreti verranno con noi a portare la loro voce educata, sempre ricca di valori, cioè la voce del centro Italia. Gli assenti l'invito a venire, mi pare che è immerso chiaramente che non ci sono volontà di dividere, tanto meno volontà di far uscire dal cratere qualcuno, non si è mai parlato di serie A, serie B e serie C, è avvilente solo pensarlo, si è invece parlato di risolvere tutti i problemi anche del singolo cittadino nel comune meno colpito. A questi sindaci gli dico che la porta non è aperta ma c'è un portone o meglio non ci sono neppure le porte e che devono essere presenti se vogliono rappresentare bene i loro territori.